Dal nostro punto di vista è fondamentale il confronto sul tema, conoscere quello che è accaduto e trasferirlo anche agli altri, informare rispetto a quello che è stato, sono stati dieci anni che sono passati e evidentemente partire da lì per il futuro. Ecco, noi la cooperazione può essere uno stimolo, può essere uno strumento, può essere l'opportunità di spingere a mettersi insieme, ad aggregarsi, perché no, portarsi a casa il risultato di un gruppo d'acquisto, di un'attività consolidata sul territorio ma che sia anche un'opportunità per chi arriva su questo territorio. Insomma, raccontare il territorio, che è una delle cose più belle e più importanti che dobbiamo fare in quanto persone pugliesi. Questo progetto si fonda su due assi importanti, uno riguarda la creazione proprio dei sistemi turistici sostenibili e l'altro un percorso che interessa tutti i Gale e che riguarda i laboratori artigianali. Noi nell'ambito di questi sistemi turistici abbiamo messo in rete circa 600 aziende e le abbiamo coinvolte in un processo partecipativo. Abbiamo cercato di indirizzarle verso un miglioramento proprio dei servizi che si offrivano al turista.